Il dottor Decio Viscidi, anestesista in forza all'ospedale San Donato, ha vissuto una bella esperienza e è andato a portare la sua professionalità in soccorso con la nave Vulcano della Marina a Gaza. Ci racconta quello che l'ha colpita di più? Sì, quello che mi ha colpito di più è la presenza sicuramente di bambini che non mi aspettavo perché ovviamente quando è partita questa attività non era perfettamente chiaro cosa si sarebbe trovato dall'altra parte. Quindi conoscere la realtà vista dagli occhi dei bambini è stato sicuramente l'impatto più forte. Un'esperienza sicuramente umana, prima di tutto, sia di collaborazione con i colleghi sia di avvicinamento a una popolazione che ha subito dei danni notevoli. Che cosa ricorda di più di quei giorni? Ricordo il senso di inadeguatezza che ho provato più volte perché comunque sono realtà nuove. Ho svolto l'attività di anestesista appunto in sala operatoria, a bordo della nave ci sono due sale operatorie e abbiamo prevalentemente curato ferite che erano state già trattate in prima battuta a Gaza e che poi sono state riviste e ritrattate da noi nelle sale della nave Vulcano. Abbiamo visto che alcuni dei bambini sono andati poi in Qatar, è rimasto in contatto con qualcuno di loro? Sì, molti dei ragazzi sono andati poi in Qatar per cure successive e con loro siamo rimasti un po' tutti in contatto. e per cui periodicamente ci inviano messaggi o foto che vengono girati nei gruppi social che abbiamo creato per le nostre attività.